Salve a tutti e bentornati in questo piccolo video dove ti faccio vedere alcune grafiche outro che puoi utilizzare nei tuoi video quindi in questo caso come puoi vedere questa è la prima grafica che puoi inserire in un tuo video e in descrizione ti ho lasciato un pacchetto, quindi un link che ci clicchi su quel link e vai a scaricare questo pacchetto, la grafica outro e dentro questo pacchetto troverai veramente tantissime grafiche, ok? quindi in questo caso se tu hai problemi con il link entra nel server discord e io ti mando direttamente questo pacchetto che pesa 38,2 MB, ok? quindi se ti può interessare questa grafica outro per i tuoi video usala, scaricala, se hai problemi commenta se hai ulteriori problemi ancora più grandi entra nel server discord e puoi iscrivervi a me in privato quindi grazie a tutti per questa visione e noi ragazzi ci vediamo in un prossimo video ciao